Tutti, bravi, 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 bravi. Vi volevo solo dire che abbiamo avuto tanti collaboratori, Ernesto, Gerardo, Carmela, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Impegno e costanza che ci mettono, che riusciamo alla fine a realizzare questi spettacoli perché è difficile e dura veramente con tutti gli impegni e con tutto ciò che abbiamo, insomma siamo tutti ragazzi e dura veramente realizzare quello che vedete. Quindi mi auguro di poter continuare, non lo prometto perché non sappiamo per l'anno prossimo se ci riusciamo, però mi auguro di poter continuare.